Buongiorno, sono Fabio Bezzi, Presidente di AIDA, Associazione Editori di Audiolibri, che per Letti di Notte, 21 giugno 2013, ha organizzato le letture bellate. Le letture bellate sono degli incontri che avverranno nelle librerie e nelle biblioteche che desidereranno farlo, tra persone che sperimentano l'ascolto. Un ascolto puro, fermando tutti gli altri sensi, per questo sono state preparate queste mascherine da notte, che permetteranno appunto di dedicarsi semplicemente all'ascolto. Come si attinge ai contenuti audio? Esiste un sito, ilnarratore.com, nella home page c'è un banner, indicato come Letti di Notte, cliccando questo, si arriva in una pagina e una volta iscritti sarà possibile scaricare gratuitamente e tutte le volte che si vuole, tutti i titoli che si troveranno in questa pagina, che saranno divisi per categorie, per facilitarne appunto l'utilizzo, e inoltre avranno ognuno di questi titoli una breve descrizione, in modo che chi organizza la lettura vendata potrà introdurla spiegando di che cosa si tratta, a quale punto della vicenda ci si trova, a quale particolare audio libro appartiene in brano ascoltato. I brani hanno tutti una durata che varia tra i 10 e i 18 minuti, durante i quali appunto il libraio, il bibliotecario, piuttosto che un cliente della libreria o un cliente della biblioteca potrà guidare le altre persone a sperimentare questa clip di ascolto. Queste sono le letture vendate per Letti di Notte 2013.